Dovranno rispondere di ricettazione un 34enne del Burkina Faso, un 52enne senegalese, un 35enne liberiano ed un 39enne del Gambia, arrestati dai carabinieri di Andrea dopo aver tentato la fuga a bordo di un Opel Corsa. Durante il servizio di controllo i militari hanno intercettato l'autovettura con a bordo i4, che alla vista dei carabinieri si è rapidamente dileguata. Al termine di un breve inseguimento sono stati bloccati e i militari hanno verificato che l'auto era oggetto di un furto avvenuto nell'ottobre scorso in provincia di Foggia. Non solo, la perquisizione del mezzo ha permesso di trovare e sequestrare numerosi arnesi da scasso. I quattro malviventi sono stati tratti in arresto e trasferiti presso il carcere di Trani, su disposizione della locale procura. E' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Barlette e dagli agenti del commissariato di polizia un 39enne del posto, con precedenti di polizia responsabile di resistenza pubblico ufficiale. L'uomo ha tentato la fuga nonostante l'alte, intimatogli da una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale. Il 39enne, superati gli agenti, ha tentato la fuga imboccando la strada statale 16 bis. Dopo un lungo inseguimento sono giunti in aiuto i carabinieri. La fuga del 39enne è terminata a lungo la 16 bis all'altezza dell'uscita di Trani, dove è stato poi bloccato e tratto in arresto. Per l'uomo, la procura della Repubblica di Trani ha disposto gli arresti domiciliari.